e bella a tutti ragazzoli bentornati in questo nuovo video siamo ancora una volta su new world allora il nuovo dungeon glacial turn lago ghiacciato mutazione ghiaccio e ovviamente il nostro immancabile silenzio ragazzi ragazzi ce l'abbiamo fatta oro sarà stata la terza run consecutiva che faccio per farlo oro intraranno abbiamo fatto easy basta capire le meccaniche questa volta vi lascio con la mia build stocco e arco perché giustamente capirete 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 vi lascio il dungeon a No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. It's a bit of a failure. ... No, no. There is a bit of it. No No Now No Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go You can go Oh, no. Sì. Oh, yeah. Sì. Grazie per la visione. Fai. che mi rispara due volte col su mi spara c'è che mi insegue due volte non è la prima volta che lo fa che mi insegue che mi insegue Beh bro bro Sei per me bro Grazie Oh 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 no è pasta Grazie a tutti. 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 Cut. 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 Ma che parla Drop down guys drop down after you Oh ok let's go boys merda merda perfetto ok 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 8 minuti sembra tanti ma lo so let's go 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.